Schizza la colonina di Mercurio, l'arrivo di correnti africane sta portando temperature molto importanti. Il picco si raggiungerà nella giornata di domenica, intanto le spiagge prese d'assalto. Questo caldo eccessivo purtroppo porta anche fenomeni meteorologici improvvisi, come la violenta grandinata che si è abbattuta su Altamura proprio nelle scorse ore. Intanto questo è il panorama a Bari. E' preoccupato per questo caldo eccessivo che è esploso a Bari? Sì, domani è 40 gradi. E si sta bene? Noi siamo abituati ormai. Tranquil, c'è un po' di vento, sta bene. Tollera bene o è preoccupato comunque perché ci sarà un picco nella giornata di domenica? Ma adesso è l'inizio, deve ancora venire il caldo forte. Ce la godiamo tutta, siamo venuti dall'Abruzzo per godercela. Bagno l'abbiamo fatto? Sì, sì, già fatto stamattina. L'acqua è perfetta. Quando fa freddo vogliono il caldo. Quando fa caldo vogliono il freddo e non si sa mai perché siamo insoddisfatti. Questo caldo ci piace o ci preoccupa? No, 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 ci piace, non ci preoccupa per niente. E' chiaro che mi devo proteggere perché sono di cannazione bianca. In Altura, Veneto, quelli si devono preoccupare, non hanno il mare. Lei ha un vantaggio, quello di stare bello fresco senza capelli. Bravo. Vedi cosa mi compro? Con i soldi dei barbiere. Tutto il costume dell'Inter. Sembra Forza Italia, Forza Italia. Però, innamorato pazzo. Mi sono sempre innamorato pazza. Pazza Inter. Amala. Amala pazza Inter. Amala pazza Inter. Amala pazza Inter.